Le sentite? Campane a festa che annunciano finalmente la terza edizione di Green Noto. Sì, perché quest'anno non sarà un'edizione dedicata soltanto al jazz e alla musica, ma diciamo un'edizione che presenterà l'arte e la bellezza. Ciao, 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 ciao! Con la sua terza edizione dal 5 al 26 agosto torna il Festival Esperenziale Gerganico che sotto il cielo d'estate celebra e valorizza tre eccellenze indiscusse, la foresta umbre, il jazz e la dieta mediterranea. La rassegna dopo il successo di pubblico e di critica delle precedenti edizioni ritorna ad animare il cuore naturalistico del Parco Nazionale del Gergano con quattro appuntamenti che valorizzeranno la musica, l'arte, il food e il patrimonio materiale e immateriale del Gergano. Il cartellone ideato e coordinato dall'Agenzia di Comunicazione e Promozione Scopro con il sostegno del Teatro Pubblico Pugliese e del Ministero della Cultura e della Regione Puglia porta la firma artistica di Gioge Telesforo, cantante, musicista, conduttore radiofonico e istituzione musicale del jazz italiano. E intanto mi assumo la responsabilità di aprire questa terza edizione il 5 di agosto con questa band con la quale stiamo girando in lungo e in largo per il nostro paese, Big Mama Legacy, una band composta da alcuni fra i migliori talenti della nuova generazione jazz e non solo jazz. Green Note, Gargano, jazz and food a partire dal 5 di agosto. Ci vediamo lì, un abbraccio a tutti.